Un saluto da peraziende.com Salve a tutti e in questo video cercheremo di presentarvi brevemente quelle che sono le caratteristiche fondamentali dell'applicazione Google Facebook da noi realizzata L'applicazione Google Facebook di peraziende.com permette ad ogni singola azienda di avere un posizionamento all'interno di Google realizzato attraverso il sito internet dell'azienda oppure direttamente con una vetrina aziendale dedicata all'azienda stessa e pubblicata all'interno di peraziende.com e di avere strumenti di marketing Facebook all'interno della propria pagina Facebook aziendale La nostra applicazione crea un vero e proprio sito internet all'interno della pagina aziendale e offre all'amministratore dell'applicazione degli strumenti di comunicazione o in bacheca della pagina Facebook del contenuto, delle offerte speciali, delle comunicazioni che si vanno man mano nel tempo ad inserire all'interno dell'applicazione o addirittura una comunicazione con notifica privata a tutta la lista dei contatti della pagina Facebook e a tutta la lista dei contatti dell'amministratore della pagina Facebook Una cosa che ci tengo a sottolineare ed è veramente una novità assoluta l'operatore Facebook all'interno dell'applicazione contenuta nella pagina aziendale Facebook può veramente conoscere quelli che sono tutti i dettagli dell'azienda e contattare la stessa senza mai uscire dalla pagina Facebook infatti le nostre applicazioni sono completamente personalizzabili in questo caso abbiamo un'azienda che ha dei servizi ma possiamo avere un'azienda che ha servizi e prodotti un'azienda che ha solo prodotti un'azienda che non ha video, che ha video un'azienda che non ha gallery insomma è completamente personalizzabile il contenuto generalmente si presenta con una home page che è un riassunto di tutto il contenuto inserito dall'amministratore all'interno dell'applicazione Facebook da una pagina dedicata ai contatti da una pagina dedicata alla gallery da una pagina dedicata ai video, ai servizi, ai prodotti e via dicendo molto importante capire che la vetrina di peraziende.com dedicata in questo caso a MBR automotive si interfaccia allo stesso tempo con la stessa applicazione che lavora all'interno della pagina Facebook quindi se io clicco sui servizi offerti dall'azienda troverò i servizi che sono riportati allo stesso tempo all'interno della pagina di peraziende.com un risparmio notevole di tempo e una pubblicazione più efficace per quanto riguarda la comunicazione e posizionamento internet infatti ogni singola offerta ogni singolo prodotto e servizio viene pubblicato all'interno dell'applicazione Google Facebook lavora contemporaneamente viene lavorato contemporaneamente dall'applicazione per il posizionamento Google per la visibilità all'interno di peraziende.com per la visibilità e la comunicazione all'interno della pagina Facebook ora vediamo dei piccoli esempi che riguardano il posizionamento Google e poi vedremo nei dettagli quelli che sono il discorso del contenuto che può essere inserito all'interno dell'applicazione vi faccio dei piccoli esempi molto veloci per quanto riguarda il posizionamento il posizionamento ricordo che può essere raggiunto attraverso la nostra applicazione o con il sito internet diretto del cliente oppure con la vetrina aziendale in questo caso stiamo vedendo dei posizionamenti diretti del sito internet aziendale io ho cercato la parola chiave commutatore potete capire bene che in questo caso mi esce fuori in una fabbrica di commutatori peraziende.com in prima pagina di Google quindi capite che l'applicazione che noi forniamo è un'applicazione veramente molto importante allo stesso tempo l'azienda G.Milani che soffrisce di queste applicazioni può essere trovata in prima pagina di Google anche per commutatore vendita commutatore e tutta un'altra serie di parole chiave che non siamo qui ad elencare per una questione di tempo allo stesso modo io posso trovare altre aziende che utilizzano la stessa applicazione e che allo stesso tempo hanno una pagina aziendale all'interno di peraziende.com hanno un sito internet all'interno della pagina Facebook e che gestiscono ripeto tutti allo stesso tempo contemporaneamente attraverso una sola pubblicazione all'interno dell'applicazione braccialetti in silicone ho cercato su Google e come potete vedere ai primi post della seconda pagina esce fuori un sito internet che utilizza la nostra applicazione sono dei piccoli esempi che sto facendo in modo molto veloce per farvi vedere che in questo caso noi abbiamo ottenuto dei risultati di posizionamento attraverso semplicemente il sito internet del cliente nel momento in cui l'applicazione non riesce a posizionare il sito internet del cliente cerca di piazzare nelle primissime posizioni quelle che sono le vetrine la vetrina collegata all'azienda e contenuta all'interno di peraziende.com in questo caso io ho cercato occhiali da sole personalizzati mi esce fuori sempre l'azienda che produce occhiali da sole personalizzati con la vetrina peraziende.com ora andiamo a vedere invece i posizionamenti diretti della vetrina di peraziende.com e quindi ripeto nel caso in cui la nostra applicazione google facebook non riesce a posizionare direttamente il sito internet del cliente va a posizionare la vetrina dell'azienda con tutti i contatti aziendali e con tutto il contenuto aziendale pubblicato e gestito dall'amministratore all'interno di peraziende.com fabbrica di bottoni lo cerchiamo all'interno di google ed esce fuori peraziende.com di sgroup se cerco vendita alternatori capite bene che chi vende alternatori vuole essere visibile in prima pagina di google proprio per la parola chiave fondamentale che è vendita alternatori peraziende.com ristrutturazioni appartamento abruzzo utilizzo questa parola chiave per farvi vedere come anche un'azienda di media dimensione riesce a sfruttare al massimo quello che è la visibilità non solo di google di avere questa è la stessa azienda guardate di avere una vetrina dedicata all'azienda completamente gestibile e di avere allo stesso tempo poi un'applicazione facebook che ripeto ha importantissimi strumenti comunicazione ne vediamo qualcuna brevemente per farvi vedere che per ogni azienda c'è un proprio livello di personalizzazione un attimo di pazienza il mio computer registra il video quindi rallenta non di poco la registrazione in questo caso abbiamo aziende turistiche di tipo turistico e quindi la personalizzazione è del tutto differente le applicazioni sono raggiuncibili dalla pagina dedicata all'azienda di facebook direttamente con il pulsante che è personalizzabile anch'esso con un'immagine e con una presentazione di tipo testuale vi voglio far notare quest'ultima cosa per farvi capire l'utilizzo e la praticità e la convenienza della nostra applicazione in questo caso io ho un'offerta che è stata inserita da MBR Automotive in automatico è stata posizionata sia su google è presente all'interno di peraziende.com ed è presente all'interno della pagina facebook e se clicco nei dettagli rimango sempre all'interno della pagina facebook vedete e nei dettagli mi troverò foto descrizione e un video quindi in questo caso voglio farvi vedere che lo strumento applicazione google facebook è veramente completo permette all'azienda non solo di essere visibile all'interno dei risultati google ma di essere di comunicare anche attraverso lo strumento facebook e la comunicazione che viene realizzata vi ripeto è una comunicazione studiata proprio soprattutto per quelle aziende che hanno esigenze di comunicazione continua con la lista dei contatti facebook e ripeto abbiamo comunicazione di tipo bacheca pubblicazione in bacheca e allo stesso tempo pubblicazione all'interno dell'applicazione e comunicazioni automatiche a tutta la lista dei contatti vi ricordo che l'installazione base dell'applicazione è quindi completa di tutte le informazioni dedicate all'azienda viene fatta direttamente dal nostro staff e dopo l'attivazione del servizio riceverete tutta una serie di indicazioni e assistenza diretta tramite TeamView direttamente sul vostro pc dal nostro staff per informazioni e spiegazioni sull'utilizzo della nostra app spero di aver reso l'idea di quelle che sono di quella che è veramente la novità e l'utilizzo che possiamo fare di questa applicazione e spero presto di avere da voi un contatto un contatto informativo grazie a tutti e un buon lavoro grazie a tutti